C'è profondità da quella parte per i bianconeri Palla giocata dall'altra parte, c'è Masciangelo che mette giù col petto Cambio di gioco ma errore di Beruato che non arriva da Fernandes Allora Olbiapinna in profondità, non trova Setter, chiude bene la porta Molto spazio in avanti e c'è Lupe e c'è Momente che può avanzare Momente contro il Cibiede, prova il tiro Momente al Cibiede, ci mette il corpo Castano non ci può arrivare, allora è più Momente dall'altra parte ha molto spazio ma il Cibiede ci arriva per un momento Ancora Momente Massimiliano Gatto che entra verso l'area di rigore Poi viene arginato dal Cibiede e chiude da Beruato Già battuto con il pallone che rimane sulla sinistra Adesso va a proporsi Tomasini che qui c'è per te Dunque un risultato pesante però con una squadra con il vento in coppa come lente La ci può stare, è tanto bella la giocata nel punto d'era che prova ad andar via Con Tomasini che fa tutto molto bene Corradi Pallate di torno per il numero 10 della Piacenza che prova a scattare, avvicinarsi alla bandierina Corradi prova a rientrare, ce la fa in un primo momento su Alcibiade Poi difficoltà Zanon Si fa vedere Fabro servito Poi Ture Ancora Zanon deve difendersi Però forse un po' la storia conta Anche in una partita come questa O almeno prova a farla contare In zona Mavididi Colpisce Rossi Zanon Guberti lascia passare Passare per Aramu Trova ad accelerare Aramu Anche quando non è esattamente in Grande forma Immaginate quando è al massimo Dell'allenamento E ancora la Carrarese in possesso del pallone Che sfrutta il momento buono per attaccare Il pallone sui piedi di Beruato che manda subito verso Mura Naturalmente in fase passiva di non possesso diventa un 5-3-2 Sì perché si abbassano sia Mura che Galli Lo mette giù Desperienza senza fallo E prova a uscire Con un lancio lungo Attenzione a questa azione che diventa la difensiva offensiva al Cibiade Desperiente Prova da Monte Malbisola che ha già messo giù il pallone Balestrero Prova ad andare C'è la chiusura di Alcina